Ciao a tutti e bentornati su questo nuovo episodio FIFA 19 Carriera Giocatore Sempre il mio giocatore Maiko84 e adesso avviamo le semifinali, mi sembra, contro il Bayer Leverkusen No, alternativa, alternativa, tutta alternativa, 15 luglio ore 11, come le 11, perché dove giocano? Boh, ma sa che giocano fuori Madonna, Cristiano Ronaldo 94, 95, 95 Ma tuoi stai avanti e se ti scrivi Ronaldo? E più che altro sono quelli che dai dove mi mandano a giocare Sì, adesso c'erano andi in campo, vuoi capire Vado un quadrato Per poco Ah, Wallland, eccolo dov'è qua, il Bayer Leverkusen, ho preso il Milan nella carriera che giocavo io Ah, io Oh, ma sono qua Dai, corre Ronaldo Ah, ci vedo il 6 Dai, stinco Dai Non ha forza, no, ti dico Dove sono? Sì, sì, vabbè Sì, vabbè Anche si fermano a Ronaldo Oh, fatti vedere Oh, fatti vedere Ronaldo Mi ha tolta l'ultimo Mi ha tolta l'ultimo Prima, credo lo stavo tirando Guarda questi come difengono No, ho sbagliato Dovevo liberarmi prima della palla Ah, è che sto arrivando Dai Eh, ma mettimela bene però Dai Mi fanno correre per niente No, ho sbagliato No, ho sbagliato No, ho sbagliato la testa sono un po' ancora... dai madonna ronaldo oh con l'Ajax pareggio come mai? come mai pareggio? oh però... falte di s'appagarlo ... mi fai le finta? dimmelo che mi fai la finta no? ma non in mezzo subito ero dietro Grazie a tutti. Dai, però, insomma, arcati. Mamma mia. Dai, quadrado. Non ci posso arrivare. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè prima. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. No, è pure di qua la sbaglia. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Non perdere. Vabbè. 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 No ma perché Dybala è passata lì? Cioè ma me lo spiegate Doveva andare avanti Dybala Leonardo però passa lì Fare il fenomeno di turno Oh che lini Hai pianiccio C'eva tutto lo spazio del mondo L'Alexandro Armatelo Ganolli Quello sarebbe Allegri Bella Piaciuto come corner Prendila però Pinzò Eh dai 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 Non capisco perché continuano a passarla Dybala C'è Ronaldo C'è Ronaldo Di Dybala Miro stoppa Dì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ho sbagliato. E prendi, però... No, ho sbagliato. Oh... No, ho sbagliato. 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 Ho sbagliato. sono qua vai ma... vabbò mi dite che cacchio state facendo per non dire altro dai Ronaldo mamma mia ma cosa vuole sul piedino la palla Ronaldo? Marcello? Marcello? dove è andato? dove esce Ronaldo? vabbè no e levati no ho sbagliato 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 vai Bernardo di qua di qua di qua di qua grande dai vabbè 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 caspita ma chi è che si ha fatto male? Ma puto che si è fatto male Dai Stavo a segnare lì Grande Eh là che tiro Esagerato Dai levati Vabbè Non dirò Dai ma porca puzzola Grande Aspetta che arrivano Cosa male dai subito Passalo Ma che pirla Oh è torna Aspetta Aspetta Eh No è balla Oh c'hanno chiuso C'è di nuovo Mi ha vinto Finale Vinta Il primo trofeo Questi Allegri Bello Due Allegri Coppa a inviti Ho Continuato Po Sì 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 E così abbiamo vinto. Quindi, prima coppa. Oh, meno male, qualche trofeo sbloccato. Adesso vediamo se rimango alla Juve o ci spostano, se mi mandano a qualche altra parte. 12 agosto Supercoppa Italiana. Andiamo a fare gli allenamenti, però fermati. Allora, prima a cambiare il Città Scott contro la palla e di questi già non me ne mette più. Di questi non me ne mette più. C'è sempre sto passaggio lungo che è. Devo migliorare. Allora. Allora. Rimarrò o andrò via? Rimarrò? Mo? Chi lo so? Ehi, 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 fermati. Eh, se mi fermano la partita, però. Non si è attenzionato nella formazione di oggi. Ottimo. Quindi... Ah, proprio manco in panchina sono. Bah. Spettacolo. E infatti vince 1-0 col gol di Dybala. Buono. Supercoppa Italiana vinto la Juve. Partita spostata. Torino Juventus, 26 dicembre, nuova data, 6 gennaio. Capito? Ma se non mi fai andare a giocare, vero? Guanti carriera giocatore. Scattiamoli. E anche i calzettoni. Ok. Quindi... Andiamo un po' a vedere. Ripetiamo su allenamento qua. Faccio prima. Intercettazioni. E' salito. C'è ancora il calcio mercato. Ah, c'è la prima di campionato. Col Chievo. Allora, scogli gli obiettivi di partita. Voltazione media, 9. Gol. Voglio che segni tre gol. Sì. C'è il Chievo, poi c'è la Lazio, poi il Sassuolo, poi il Sassuolo. Ci ottengo degli impegni egevoli sulla carta. Prossimamente dovremo affrontare la squadra a Parma e mi aspetto il massimo impegno dalla parte di tutti. Cosa vuol dire che non mi fai giocare questa partita? Ah, ok. Ma la prima giornata di campionato la vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e scrivetemi qua sotto nei commenti se vi piace oppure no. Ciao. 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 Ciao.